gli disse giovanni maestro abbiamo visto un tale scacciare i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché egli non viene insieme a noi gli rispose gesù non glielo proibito poiché non c'è nessuno che operi un miracolo in mio nome il quale possa subito dopo parlare male di me infatti chi non è contro di noi è per noi poiché chi vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di cristo in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa chi poi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono sarebbe meglio per lui che gli si appendesse al collo una pietra da mulino e fosse gettato in mare che se la tua mano ti è di scandalo tagliala è meglio per te entrare monco nella vita che andare con tutte e due le mani nella genna nel fuoco inestinguibile parimenti se il tuo piede ti è di scandalo taglialo è meglio per te entrare zoppo nella vita che essere gettato con tutte e due i piedi nella genna ancora se il tuo occhio ti è di scandalo cavalo è meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di dio che essere gettato con tutte e due gli occhi nella genna dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue grazie a tutti grazie a tutti